Lo scorso anno abbiamo ottenuto riconoscimento partecipando al bando di CEPEL, il centro per il libro e la lettura di Città che legge. Questo riconoscimento che abbiamo per il 2020-2021 l'abbiamo ottenuto grazie alla nostra tradizione ultra quarantennale della mostra del libro per ragazzi per le attività finalizzate alla lettura che l'amministrazione ha svolto in collaborazione con gli istituti scolastici e le biblioteche del territorio. Questo riconoscimento ci consente di partecipare a bandi e a progettualità dedicate, ad esempio in questo momento stiamo lavorando ad un bando che scade a fine mese destinato alla diffusione più capillare dello scambio di libri sul territorio, quindi anche al di fuori delle biblioteche e a progettualità legate agli soggetti fragili, laddove ad esempio la lettura ad alta voce è uno strumento di comunicazione e condivisione. E progettualità dedicate alle scuole che vorremmo appunto presentare è una cosa molto carina, si chiama una città da favola che coinvolge i più piccolini, quindi scuole dell'infanzia e primarie. Il patto è uno strumento che è necessario a tal fine perché è necessario coinvolgere tutti i soggetti privati e pubblici del territorio che diciamo fanno parte di quella che è la filiera culturale ed educativa del territorio. Questo patto diventa uno strumento di governance indispensabile per promuovere, condividere, progettualità con tutti i soggetti del territorio. Per quanto riguarda le scuole ormai sono più di dieci giorni che tutte sono chiusi in questo momento. Com'è la situazione se hai sentito non so presidi anche genitori di bambini? Diciamo ho sentito i dirigenti scolastici, le scuole grazie a Dio in quest'anno si sono attivate quindi lo strumento, l'unico strumento possibile della didattica a distanza funziona. La difficoltà ovviamente è tenere i bambini a casa perché la didattica a distanza non è scuola, non è condivisione e quindi la difficoltà dei bambini sicuramente ma anche delle famiglie perché poi devono conciliare il lavoro con l'esigenza di stare con i ragazzi. E quindi la situazione è difficile e speriamo che questa situazione si risolva quanto prima. Grazie. Grazie.